buongiorno bellissimi questo è il ventesimo giorno e stanotte mi è successa un'altra incredibile esperienza una incredibile coincidenza e dimostrazione di ospitalità giorno 19 insieme Ciao bellissimi! Oggi è il giorno 19 e sto prendendo la mattinata con molta calma. Sto risalendo e ridiscendendo su e giù per la costa del Gargano. Ci sono molti pendini, non sono particolarmente ripidi, però sono abbastanza lunghetti. E il carrellino mi tira molto indietro, quindi mi faccio con molta calma spingendo la bicicletta e godendomi il paesaggio. E' il diciannovesimo giorno, sono le 6 di sera e riparto adesso da Peschici. In realtà mi sarei dovuto fermare per la notte lì, ma la persona che mi aveva proposto ospitalità sembra che abbia avuto un imprevisto. Quindi, visto che oggi ho fatto solo 30 km la mattina, ho pensato di proseguire e di sfruttare le due ore prima del crepuscolo. Vediamo, penso di arrivare a Vieste oggi. E poi, non so, ci arrangiamo. E poi, non so, ci arrangiamo. Buongiorno, bellissimi. Quindi, questo è il ventesimo giorno e stanotte mi è successa un'altra incredibile esperienza, una incredibile coincidenza e dimostrazione di ospitalità. Come, non mi ricordo se ho fatto dei video, comunque sicuramente c'è qualcosa che mostra mentre cerco un luogo per mettere la tenda. E mi trovavo appunto in mezzo agli uliveti di Vieste, cercando un punto decente dove accamparmi. E a un certo punto ho visto una piazzola. È passato un signore e gli ho chiesto se potevo mettermi in quella piazzola. E lui mi ha detto che sarebbe passato il proprietario da lì a breve. Quindi mi sono fermato, ho aspettato una mezz'oretta e poi ho deciso di proseguire perché non arrivava e faceva già buio. Quindi ho pensato, forse è meglio se vado avanti. Lungo la strada ho incrociato il proprietario che era stato contattato da quest'uomo, mi ha fermato, mi ha portato sulla piazzola e mi ha detto che potevo stare. E poi ha pensato un attimo e mi ha detto, no aspetta, è meglio se vieni un po' su vicino a casa perché in questa zona ci sono lupi e cinghiali. E quindi non è proprio il caso che tu ti metti a qui con la tenda. E allora l'ho seguito su fino al giardino di casa dove c'ha i cani anche da guardia. E parlando così del più del meno, abbiamo fatto un po' la prima conoscenza e ha deciso di invitarmi in casa. Mi ha offerto un divano, mi ha offerto una doccia e anche mi ha cucinato del cibo buonissimo tradizionale con frutta e verdura del suo orto. Cioè, spettacolo! Cioè, spettacolo! Cioè, spettacolo! Cioè, spettacolo! Cioè, spettacolo! Buongiorno! Cioè, spettacolo! Cioè, spettacolo! Buongiorno! 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 ragazzi qua siamo in una località dove c'è una strana statua incastonata nella roccia si può trovare solo in agosto Grazie a tutti